Il salone di Stefania Air, di Stefania Pilli, insieme a quello che è la sua capacità di creare il colore nei capelli, ha al suo interno anche un barbershop. Attenzione e servizio per uomo e per donna, con quelli che sono tutti i dispositivi di protezione personale, dalla mascherina all'asciugamano di carta al kimono usa e getta. Stefania si occupa delle sue clienti, mentre Gian Maria, giovanissimo, si occupa di barba, baffi e capelli. Ed ecco allora il giovane Gian Maria al lavoro, perché la barba è cosa difficile quando si tratta di moderarla, di renderla perfetta per il viso che dobbiamo incorniciare. E allora si va di rasoio elettrico e di rasoio manuale, come una volta, e dando al cliente la massima soddisfazione. Perché il cliente ci tiene che la barba sia curata, sia perfetta, che possa dare la distinzione di quello che è il suo modo di essere uomo. Sono sei anni che Gian Maria si occupa di taglio e di barba e piano piano sta crescendo. Stefania insegna i piccoli segreti del mestiere del parrucchiere da quello che può essere il semplice colore al taglio. Ma la professionalità di Gian Maria è sempre per l'uomo. Taglio capelli, barba e baffi. Perché è un'arte e un mestiere non facile. E trovare un buon barbiere è davvero qualcosa di difficile. Stefania Ayer è a Bastia e vi aspetta per accontentare clienti, uomini e donne. Per il taglio, per il colore o per la barba o i capelli. Tutto nella massima sicurezza. Noi vi aspettiamo. Stefania Ayer, Bastia Umbra.